Per il nono anno Giochi senza barriere, una festa da dedicare ai bambini disabili che non vengono invitati alle feste dei loro compagni, ma soprattutto è anche una manifestazione per rivendicare il diritto all'esistenza, il diritto allo studio, il diritto alla salute che per i disabili nel nostro paese drammaticamente negli ultimi 20 anni sono messi in discussione. È arrivato il momento di invertire tendenza e Napoli, proprio da Napoli, si inaugura per il nono anno consecutivo una festa nella quale si parla con gioia di diritti, si parla con il sorriso sulle labbra di solidarietà, ma soprattutto si pratica la solidarietà e i diritti. Grazie